ehi ragazzi scusate le condizioni sono completamente vestita a caso struccata ma molto onestamente da ieri non sto proprio bene quindi ho detto sti cavoli per non dire altre parole di come sono conciata tanto devo solo fare un intro veloce allora ragazzi che cosa andrò a fare oggi come avete visto dal titolo andrò ad aprire un pacco che contiene cose creative ma non sono cose diciamo nuove non lo comprate un negozio anzi per la precisione non le ho comprate perché perché magari qualcuno di voi si ricorda di questa personcina carina che faceva video su youtube qualche anno fa abbiamo fatto varie collaborazioni c'erano anche incontrate eccetera di chi parlo questo pacco arriva da niente niente di meno che come si dice da da rose qualcuno se la ricorda anche lei faceva video su cose creative resina esperimenti creativi eccetera eccetera poi qualche anno fa ha smesso comunque adesso lei fa ancora video anche su se su altro fa video su sostenibilità su risparmio su cose biologiche eccetera eccetera sono comunque cose molto interessanti quindi vi consiglio comunque di andare a dare un'occhiata sul suo canale si chiama comunque daria al naturale e appunto mi ha contattato poco tempo fa e mi ha detto guarda io ho questo scatolone con delle cose creative e buttarle mi scoccia anche perché non sono cose facili da riciclare o da smaltire in modo ecologico perché effettivamente tipo la resina eccetera non sono proprio facili da buttare via diciamo così e quindi mi ha detto ti va se ti spedifico questo pacco lei non mi ha fatto pagare niente ho pagato solo la spedizione appunto e ci teneva molto a riuscire a dare via il pacco diciamo se è così in modo da non doverlo buttare a darlo magari a qualcuno che lo può usare quindi felice lei felice io e viva felici tutti e niente adesso l'ho già aperto gli ho già dato un'occhiata ma una roba molto veloce anche perché non avevo calcolato di farci il video però secondo me è una cosa molto carina e adesso cambiamo inquadratura e vediamo che cos'è che aveva in casa che appunto non le interessava più perché appunto questo è tipo il risultato di un decluttering è uno scatolone uscito da un decluttering e niente andiamo a vedere ok questa inquadratura credo che possa andare e niente ragazzi questo è quello che si vede nello scatolone allora andiamo a tirar fuori tutto quanto che cosa abbiamo abbiamo questo impacchettato con la carta igienica che contiene ok due bottigliette poi c'è io la maggior parte io le ho prese queste cose comunque sono cose creative però poi non so se riuscirò ad usare tutto quello che c'è qua dentro o se li dubbi a riguardo però insomma tanto di cose creative ne ho così tante che sono effettivamente un magazzino e niente abbiamo queste due bottigliette oh mio dio qui abbiamo una busta piena di boccetti di resino UV suppongo che siano quasi tutti almeno iniziati penso ma questa cos'è resino UV nera ma in questo boccettino molto strano sembra una penna sì sono tutti appiccicosi si sente ok sì insomma è resino UV di varie marche però poi alla fine la resino ovviamente è sempre uguale onestamente da una marca all'altra non cambia praticamente niente allora vediamo che cosa c'è qua dentro allora ah questi questi io anch'io ok questi due stampi questo con le gemme e questo con e non ho mai ben capito perché occhiali targhetti sono mai ben capito questo mi pare di avere anche sì mi pare di avere anche questo con le cornicette e le forme uh dei fiori secchi si fanno sempre comodo altri fiori sexy che belli questi uh dio cos'è uno stampo per un fiocco di neve uh adoro questo comodissimo oh sì soprattutto gli anellini che li uso sempre molto molto comodo poi oddio questi sono minuscoli sono forme di natale direi sì un altro fiocco di neve diverso da quello di prima quante cose ci sono qua dentro ok aveva un esercito di stampi a fiocco di neve oh mio dio quanto è sottile altri fiori secchi belli questi sull'illa e oddio questo è tutto appiccicoso no perché però che belli questi glitter sono flakes e sono arancioni flakes arancioni non ce li ho belli ma facciamo tipo così wow aiuto altri fiori secchi sul rosa chiaro giallino uh che belli ma beh che sono così appiccicosi questi che belli flakes bianchi che bello anche questo mi sta che questi qui come quelli che ho fatto vedere prima erano tipo venduti tutti insieme perché li ho tutti anch'io quindi ah mi sa che ho anche questo con le letterine però non ho mai saputo cosa farmi uh bello questo un pigmento perlato sì bello 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 molto bello perlato con l'effetto perlato è un po sul rosa non si vede molto che cosa è questa cosa tipo un segnalibro con un lama o un alpaca non lo so fiori secchi di vario tipo e anche qui questi sono quadrifogli secchi che carini questa è una tela cavolo cosa le è successo qui è una tela di dimensione blu è come una 4 credo questo qui è lo stampo se non sbagli era quello per ghiaccio che si usava che si deve usare si dovrebbe usare con il ghiaccio per fare tipo i bicchierini in tasciottino una roba del genere non lo so però si possono fare i bicchierini con la resina effettivamente però i bicchierini e però poi sarebbero solo per estetica perché non è il caso di usare la resina con gli alimentari non lo so mi confonde un po come potrei usare quello stampo qui abbiamo cosa sono dei pacchetti regalo o è questa cosa che cos'è water color crayon oh pastelli a cera ma acquarelli in che senso che bello come si usano questi non ne ho proprio idea perché li hanno usati brutta idea erica bruttissima ma sono dei tiger non li ho mai visti mi pare fatemi sapere se sapete come si usano perché effettivamente non saprei di solito i pastelli a cera non sono ad acqua no qui abbiamo questo cos'è ah sì quello per la è un componente della gomma siliconica se c'è il catalizzatore si può usare per fare gli stampi però io ho sempre avuto grossi grossissimi problemi a usare queste gomme siliconiche e queste da colata perché non sono capaci e non sono per niente facili da usare proprio per niente ma questa è la pallina di natale credo che si vede il mio riflesso sì ciao ah questi fanno sempre molto comodo le basi per i portachiavi con la catenella questo cosa cambia da quello di prima? i colori prima avevano i riflessi un po' rosa e questo no beh sono molto utili entrambi perché comunque il bianco perlato lo uso tantissimo con la resina ma questo? uh tantissime boccettine con i glitter molto interessante quante ci sono con i glitter ci sono con le fruttine con queste tipo mezze perline queste sono micro perle credo e ci sono un sacco sì sì e rimane solo questa borsona credo aiuto è enorme però c'è altro qua dentro ok allora c'è l'altro componente di quello per fare gli stampi ci sono degli stick di colla a caldo uno trasparente e due con i glitter verdi altre basi per portachiavi questi non hanno la catenella e questo è il mio pavimento perché sì stavo registrando per terra perché non sapevo come fare a registrare uno scatolone ma vediamo la borsona eccola qua ah ma che? silicone oh mio ma sono stampi silicone 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 oh dio ma che? raga sono confusa stavo cercando di capire senza aprirlo ma lo stampo è letteralmente questo è uno di quegli stampi per fare le torte moderne che hanno sempre quelle forme molto precise e quindi lo stampo è letteralmente questo qui la parte quadrata che vedete qua è interessante però per fare una creazione grandina magari da appendere bene bene interessante questo cos'è? oh pinata color oh raga sono i colori per i petri dish e tra l'altro mi sa che sono nuovi adoro c'è il viola l'oro il blu un altro blu baja blu sapphire blu ok sono due blu diversi a quanto pare il fucsia e il giallo sono nuovi interessante interessante poi un altro stampo ah beh sì è come quelli prima però è rotondo questi sono stampi di controcavoli ragazzi quindi niente male e si vede che sono lucidi mh interessante interessante oddio che cos'è questa cosa? gomma siliconica liquida traslucida pure mold non riesco a trovare la marca forse è pure mold la marca non ne ho idea comunque non l'ho assolutamente mai trovata interessante ci sono anche dei guanti dentro resin pro non credo di aver mai provato la resina della resin pro nonostante sia un bel po' famosa ehm mai provata è quanto mi sa che questa è la stessa marca non è detto non è che solo perché ci sono in entrambi dei guanti neri allora è la stessa marca ci siamo quasi la B6000 ma questa mi ricordo male o questa mi ricordo che non faceva molto bene come colla tipo non lo so era tossica no forse sbaglio non lo so qui ha tirato un po' di polvere abbiamo questo decotape con fiori viola e altri pigmenti altro pigmento questo è oro un oro un po' giallino e basta è finito ragazzi eh c'erano veramente un mare di cose in questo pacco quindi Daria ti ringrazio tantissimo e adesso vedrò bene cosa fare con tutte queste cosine e ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con il prossimo ciao ciao